Eccoci qui allo stand di Arcos, non ci viene permesso purtroppo di provare i device, facciamo una breve carrellata di ciò che ci viene mostrato Vediamo il primo tablet, il 101XS, riuscite a leggere voi stessi quelle che sono le caratteristiche principali Vediamo che integra una tastiera, vediamo poi un gamepad 2 e vediamo il tablet 79 Xenon Procediamo avanti, questi sono degli altri accessori Purtroppo ci dispiace non potervi mostrare in condizioni migliori i prodotti ma purtroppo Arcos ha deciso di tenere tutto sotto chiave Vediamo 50 Helium 4G, 45, 40 B, 50 B Oxygen, 50 C Oxygen Vi do una carrellata di quelle che sono le feature principali E non ci resta che dire che speriamo il prima possibile di poter provare tutto con mano Non sappiamo prezzi, non sappiamo le funzionalità, non sappiamo un pochino che quelle possono essere le versioni di Android incarnate Tranne che per alcuni modelli in cui riusciamo a vedere Jelly Bean Un saluto a tutti da Gabriele per Android Blog